L'udienza del Papa con i dipendenti delle ferrovie dello Stato inizia con i ringraziamenti di Francesco per quanti si sono adoperati per realizzare le linee che percorrono l'Italia, per quanti operai hanno perso la vita, una cosa che non si deve ripetere in futuro. Poi ricorda le iniziative di solidarietà presenti nelle stazioni come gli sportelli antenna, con l'ascolto, il soccorso e l'assistenza perché in difficoltà. Tutti noi avremmo bisogno di queste antenne, afferma il Papa, che ci permettano di percepire le sofferenze degli altri senza rimanere insensibili. Gli sportelli continuo sono un modo per tenere unito il Paese, non accentuando il divario sociale tra chi è abbiente e chi manca di tutto. Poi Francesco ricorda la realtà viva e importante dell'Ostello Caritas di Roma presso la stazione Termini, dove c'è la Porta Santa della Carità, un richiamo al perdono e alla consolazione per chi la attraverserà con amore, uno stimolo per donare e donarsi con più generosità per la salvezza propria e dei fratelli. L'anno santo afferma il Papa imprimere nella nostra mente e nei nostri cuori che la misericordia è la prima e la più vera medicina per l'uomo, della quale ognuno ha urgente bisogno. Quante guarigioni fa? Aggiunge una carezza misericordiosa. Infine, l'auspicio che il Giubileo rinnovi il tessuto della società rendendola più giusta e solidale, soprattutto per la Terza Guerra Mondiale a pezzi che si sta vivendo. Proprio in questo anno santo l'Italia e tutti i paesi del mondo diventino, conclude il Papa, luoghi di reti solidali, più autenticamente umani, più capaci di gioire dell'amore di Dio e della comunione vicendevole. Iniziative di solidarietà, antiche e recenti.